ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco glicerolo monte farmaco otc spa ultimo aggiornamento 20 luglio 2021 cos'è glicerolo confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere glicerolo durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è glicerolo glicerolo è un farmaco a base del principio attivo glicerolo appartenente alla categoria degli lassativi emolienti e nello specifico altri farmaci per la costipazione e commercializzato in italia dall'azienda monte farmaco otc spa glicerolo può essere prescritto con ricetta otc medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco confezioni di licerolo 18 supposte informazioni commerciali sulla prescrizione titolare monte farmaco otc spa ricetta otc medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco classe c principio attivo glicerolo gruppo terapeutico lassativi emolienti forma farmaceutica supposta indicazioni trattamento di breve durata della stitichezza occasionale posologia adulti ragazzi uno supposta adulti al bisogno o secondo prescrizione medica i lassativi devono essere usati il meno frequentemente possibile e per non più di sette giorni l'uso per periodi di tempo maggiori richiede la prescrizione del medico dopo adeguata valutazione del singolo caso una dieta ricca di liquidi favorisce l'effetto del medicinale togliere la supposta dal suo contenitore e poi se necessario inumidirla per facilitarne l'introduzione rettale qualora le supposte apparissero di consistenza molle immergere i contenitori prima di aprirli in acqua fredda controindicazioni ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti i lassativi sono controindicati nei soggetti con dolore addominale acuto o di origine sconosciuta nausea o vomito ostruzione ostenosi intestinale sanguinamento rettale di origine sconosciuta grave stato di disidratazione avvertenze speciali e precauzione di impiego avvertenze l'abuso di lassativi uso frequente o prolungato con dosi eccessive può causare diarrea persistente con conseguente perdita di acqua sali minerali specialmente potassio e altri fattori nutritivi essenziali nei vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono state riportate interazioni con altri medicamenti o di altro genere vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it assumere glicerolo durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere glicerolo durante la gravidanza e l'allattamento le supposte di glicerina possono essere utilizzate durante la gravidanza e l'allattamento vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari il prodotto non interferisce sulla capacità di guidare nessun uso di macchine effetti indesiderati occasionalmente dolori crompiformi isolati o coliche addominali più frequenti nei casi di stitichezza grave vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio dosi eccessive possono causare dolori addominali e diarrea le conseguenti perdite di liquidi ed elettroliti devono essere rimpiazzate vedere inoltre quanto riportato nel paragrafo 44 speciali avvertenze e precauzioni per l'uso circa l'abuso di lassativi proprietà farmacodinamiche il glicerolo somministrato per via rettale è in grado di promuovere la peristalsi e l'evacuazione del basso intestino in virtù della sua azione irritante e della capacità di ammorbidire la proprietà farmacocinetiche il glicerolo non presenta attività sistemica quando somministrato localmente in quanto non assorbito dati preclinici di sicurezza la disamina della notorietà di impiego l'uso consolidato e la buona tolerabilità della glicerina non hanno fatto emergere particolari rischi connessi al suo impiego clinico in supposte elenco degli eccipienti sodio sterato sodio bicarbonato farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di glicerolo a base di glicerolo sono clarilaxina stitichizza glicerolo carlo erba glicerolo e g adulti 2250 mg supposte glicerolo nova argentina adulti 2250 mg supposte glicerolo so far supposte di glicerina viti vero lax z lax sopposta fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmama x ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato